L'uomo più forte del mondo è stato un italiano. Si chiamava Giovanni Rajcevic, nato a Trieste il 10 giugno del 1881, in quella Trieste che ancora faceva parte dell'impero austro-ungarico. Un lottatore, specialità greco-romana, capace di far vendere centomila copie alla Gazzetta dello Sport del 17 febbraio del 1909, che in prima pagina, a nove colonne, titola del combattimento che Giovanni ha vinto il giorno prima al Teatro Dal Verme a Milano. Pensate che bello, si combatteva nei teatri ai tempi. Giovanni è diventato campione del mondo sconfiggendo il terribile francese Paul Pond. L'Italia letteralmente impazzisce per quel ragazzo di 172 cm che sconfigge atleti colossali come il serbo Antoni, 210 cm, 38 più di lui. La sua carriera, siamo in piena bell'epoca, ha un successo straordinario, non solo sul ring, ma anche con le donne. Conquista il cuore della bella Otero, la subrette più importante del tempo, che dopo averlo visto combattere alle Folli Berger a Parigi si innamora di lui, ma la sua vera passione è Trieste e vuole vedere la sua città tornare italiana. È un irredentista, allo scoppiare della prima guerra mondiale, molla tutto e parte per il fronte. Verrà coinvolto nella sconfitta di Caporetto, pensate lui l'uomo più forte del mondo, ma nonostante questo sopravviverà e il 4 novembre del 1916 vedrà realizzarsi il suo sogno, il tricolore che sventola su Trieste. Che fare a quel punto? Ricomincia a lottare, naturalmente ricomincia a vincere, ma una nuova passione fa Capolino, è quella per il cinema. Lui è uno sportivo famosissimo, molto amato, gli vengono offerti dei ruoli da attore che interpreta con grande qualità, recita in film molto famosi che gli fanno di nuovo decidere di mollare tutto per la seconda volta, diventa produttore cinematografico, ma fallisce. Che fare di nuovo? Facile, ricominciare a lottare e ricominciare a vincere. Una carriera che terminerà imbattuto nell'ottobre del 1928, quando al Teatro Adriano a Roma sconfiggerà nel suo ultimo incontro il cieco Hans Cavann. Una storia di rinascite, ma una storia soprattutto che ci racconta tantissimo dell'Italia di inizio novecento. È difficile concentrare questa storia in due minuti, ma spero di aver generato della curiosità per questo straordinario personaggio e per l'Italia di quegli anni.